Bene, come prossima sequenza eseguiremo chizami, yakotsuki, chizami e poi kakatoveri, calcio a martello. Partiamo da guati destra. Chizami, yakotsuki, chizami e calcio a martello. Ancora. Un pochino più dinamico. Cambio guardia. Chizami, yakotsuki, chizami e faccio a martello. Ancora. E ancora. Un pochino più dinamico. Un pochino più dinamico. Un pochino più dinamico. Grazie.